Ora però passiamo ad un bomber che sta facendo le fortune della Provercelli negli ultimi anni ma lui è un eugubino doc, ha vestito anche la maglia rosso-blu e qui con noi stasera Ettore Marchi Grazie a tutti I'm not over with you baby, I'm gonna love you till I hurt so cold I'm not over with you, oh, I'm gonna love you till I lose your mind Just you're higher, higher Un grande applauso ad Ettore Marchi Hai festeggiato un po' anche tu questa promozione del Gubbio Sì, sì, assolutamente Con piacere, hanno fatto una cavalcata incredibile Mi vanno i miei più cari complimenti Ci siamo visti davvero dei grandi gol Uno anche con la maglia del sassuolo Però di fatto Ettore Marchi riceve il premio Avis 2016 A consegnarlo è proprio il presidente Giovanni Magara Che chiamiamo qua sul palco Ettore, che oramai sei il sindaco a Vercelli, possiamo dire, o giù di lì No, dai, mi trovo bene È una piazza tranquilla Dove siamo integrati benissimo con la mia famiglia Quindi è un piacere Un saluto anche a tua moglie che ti ha accompagnato Eccolo qua, il premio Avis 2016 Consegnato dal presidente Giovanni Magara Proprio ad Ettore Marchi Dunque, complimenti e un applauso Grazie Speciale Grazie